Avere cura, bisogna avere cura per essere liberi dalla paura. Noi abbiamo cura, dobbiamo avere cura di tutti, ma dobbiamo avere cura soprattutto dei bambini. Gli asili nido, la scuola dell'infanzia, sono un esempio nella nostra città di cura per i bambini, tenuti in grande sicurezza grazie all'impegno degli operatori, di qualora che lavorano ogni giorno in queste strutture. Gli asili nido, la scuola dell'infanzia, l'attenzione ai bambini da 0 a 6 anni è fondamentale per il futuro di questo nostro paese, di questa nostra città. Per questo rivolgo un invito molto forte a tutti coloro che operano all'interno di queste strutture, a coloro che hanno cura dei bambini, di recarsi alla fila del Mediterraneo per fare dei tamponi, avendo concordato con l'ASP, un luogo deputato proprio a coloro che operano delle strutture dedicate ai bambini. Abbiamo cura, abbiate cura dei vostri bambini, dei nostri bambini, per essere liberi dalla paura di questo terribile contagio. Grazie.